Ricordi com'era emozionante l'arrivo del periodo natalizio? Quello era... era davvero magico. Purtroppo ci sono pochissimi adulti che credono ancora nello spirito del Natale. Il Natale noi odiamo, a Babbo Natale non crediamo. Strapazzo! Libero dall'oppressione e dalla tirannia del Natale, capisci? Che cosa? Qualcuno ha rapito Babbo Natale. Avanti, ormai siete troppo grandi per credere a questo genere di cose. Sorpresa. Che cosa ci fai tu qui? Voglio passare il Natale con la mia famiglia. Nonno Marco! Sapete mantenere un segreto? Negativo. Sono qui per una missione segreta, per salvare Babbo Natale e non ho moltissimo tempo. Sto bene, sto bene. Vogliamo liberare Babbo Natale. Non è troppo tardi per credere a Babbo Natale. Sono un uomo adulto ormai. Adam! Che succede? I ragazzi sono scomparsi. Nonno, ma come? Noi salveremo Babbo Natale! Pensa che suo padre sia una minaccia per i suoi figli. No! Quello che sto cercando di dire è che l'amore non è mai così semplice come può sembrare. Che succede? Grazie a tutti.